Musica Musica Vi è mai capitato di fermarvi e vedere il mondo da dietro le sbarre un detenuto questo lo fa tutti i giorni ma spesso anche noi perché molte volte noi viviamo in case ormai con sbarre oppure anche da una semplice finestra bene se noi prendiamo due persone queste due persone dalla stessa finestra dalle stesse sbarre vedranno cose diverse alcune volte cose opposte una direi la saggezza brasiliana dice che due persone guardano fuori attraverso le stesse sbarre l'una vede il fango e l'altro vede le stelle mi direte che dipende dai gusti delle persone dalla sensibilità delle persone è vero però questo ci fa capire come noi nella nostra vita abbiamo già detto che siamo tutti fragili tutti peccatori tutti noi nella nostra vita possiamo salvarci possiamo cambiare la nostra vita ma anche quella degli altri dal modo con cui io vedo questa vita le sbarre sono appunto ciò che ci imprigiona l'egoismo le debolezze le fragilità i peccati gli attaccamenti che non ci rendono liberi cioè è tutto ciò che non ci rende liberi ma se io sono capace di vedere oltre il peccato di non vedere soltanto il mio fango di non fermarmi soltanto alle mie miserie al mio peccato ma vedo oltre questo mi rende libero e questo mi rende felice vedete che molte volte noi ci facciamo schiacciare dai sensi di colpa perché confondiamo la colpa con il peccato la colpa è sempre un fatto egoistico la colpa ti fa vedere solo il tuo fango il senso del peccato invece mi fa vedere il mio fango il mio sbaglio il mio errore mi fa vedere che io sono imprigionato ma poiché so che oltre quel peccato Dio vede ciò che Lui mi ha messo dentro come i genitori vedono al di là degli sbagli dei figli vedono l'errore del figlio ma non si fermano lì sanno che Lui non è il suo errore e l'uomo non è mai il suo errore bene se io sono capace di vedere oltre il peccato la misericordia di Dio questa misericordia cambierà la mia vita e mi farà vedere dalle sbarre le stelle e non soltanto il mio fango noi ci vediamo domani Padre Pio TV dritto al cuore ciao a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!